Francesco Macri resta alla guida dell'ITS Energia e Ambiente. Il Consiglio di indirizzo della Fondazione lo ha infatti riconfermato nel ruolo di Presidente per il prossimo triennio. Sono molto soddisfatto di questa conferma, è motivo di grande responsabilità, ma anche orgoglio per il lavoro fatto insieme ai colleghi della Giunta Esecutiva e il Consiglio di indirizzo. Un ITS che è cresciuto notevolmente in questi anni, che ha avuto un supporto istituzionale importante, grandi aziende che hanno aderito, è una risposta formativa che si pone a livelli di eccellenza regionale. Quindi andiamo avanti per i prossimi tre anni nel nome della sostenibilità, dell'energia e dell'ambiente in favore appunto di una offerta che sia adeguata alle necessità delle nostre aziende e soprattutto per creare quelle opportunità in termini di occupazione per i nostri giovani diplomati. È stata inoltre rinnovata la Giunta Esecutiva con l'ingresso di Francesca Vignolini in rappresentanza di Alia e Roberto Donati per gli enti locali, riconfermati poi Emiliano Bravi in rappresentanza del Consorzio Cosvic e Stefano Pacini per l'ITS Arrocchi di Siena. Il ITS ormai è diventato al centro del percorso di formazione e per cui dobbiamo continuare un percorso iniziato tre anni. Io personalmente sono veramente contento e orgoglioso per la nomina che viene direttamente dall'Assemblea dei Socii, all'unanimità e questo appunto mi rendo orgoglioso ma mi riempie anche di responsabilità. E poi la nuova nomina a Vicepresidente dell'ITS che mi permette e ci permette di continuare a lavorare in un certo modo con il Presidente che è stato confermato giustamente per il lavoro fatto fino ad oggi.